Quando finalmente il secondo lotto della tangenziale sud collegherà direttamente il ponte Punta Penna con i quartieri più meridionali di Taranto sarà evidente a tutti quanto i ritardi che si sono accumulati per la realizzazione di questa arteria alla fine abbiano inciso e non poco sulla qualità della vita a disposizione dei cittadini di Taranto e non soltanto. A settembre è previsto il termine dei lavori seguito dal collaudo, poi chi deve andare o venire verso Talsano, San Vito e Lama e soprattutto verso la stazione navale Margrande potrà farlo senza congestionare il traffico su Viale Ionio e Viale Brigilio ma pensiamo anche ai tanti automobilisti dei comuni della Litorania Salentina che per collegarsi con la parte occidentale della nostra provincia o con il casello autostradale e la 106 non saranno costretti ad attraversare la città un'opera il cui impegno di spesa ha di oltre 50 milioni di euro con un finanziamento della Regione Puglia ed assume una rilevanza strategica per il territorio ionico in quanto non solo collegherà direttamente i quartieri della città distanti tra loro ma rappresenterà anche un passaggio fondamentale per la congiunzione alla famosa regionale 8 la strada che unirà la città di Taranto con il punto più estremo del versante orientale della provincia a Vetrana